89? 7? Tombola, tombola, tombolissima, sono brava, brava, bravissima! E poi c'è Beatrice, la peggiore sorella che si possa immaginare. È sempre stata la migliore in tutto. Beatrice è diventata notaio a 22 anni ed è l'unico notaio della storia dell'umanità ad aver vinto quattro edizioni consecutive di Miss Magnetta Magnata! Quattro uno!